Isola dei famosi, Cecilia Capriotti smentisce flirt con Amauris. Cecilia Capriotti e Amauris Perez hanno avuto un flirt all'isola 13? La smentita. Pare davvero non esserci un solo giorno in cui il reality show dip condotto da Alessia Marcuzzi non faccia molto parlare ai telespettatori. E se per oltre un mese l'argomento ampiamente dibattuto un po' ovunque è stato il famosissimo Cannagate, adesso ecco emergere un'altra indiscrezione, che ha già catalizzato l'attenzione degli italiani. Cos'altro è successo? In questi ultimi giorni sono circolate diverse voci di corridoio su una presunta passione scoppiata all'isola dei famosi tra due naufraghi impegnatissimi qui in Italia. Motivo per cui molti hanno subito pensato che i due indiziati sarebbero potuti essere Cecilia Capriotti, fidanzatissima da anni, e l'ex campione della pallannuoto Amauris Perez, sposato e comprò le al seguito. Un'illazione però smentita seccamente qualche ora fa da Cecilia nel programma web Casa Signorini. Ma non è finita qua perché successivamente le è stato chiesto se questa donna impegnata, che pare abbia tradito il compagno, sarebbe potuta essere una tra Alessia Mancini e Rosa per rotta. E a quel punto Cecilia ha asserito di non credere che le due abbiano potuto cedere alle tentazioni. Tuttavia ha anche rivelato di non essere comunque sicura al 100%, non potendo mettere la mano sul fuoco. Isola dei famosi 2018, Cecilia Capriotti nega avventura con Amauris. Cicilia Capriotti e l'ex campione di pallannuoto Amauris Perez hanno avuto un flirt all'isola dei famosi 2018? A quanto pare no di fatti è stata la naufraga a smentire seccamente tale gossip da Alfonso Signorini nel programma web Casa Signorini. Intanto proprio stamattina a mattino 5, il giornalista Valerio Palmieri ha rivelato di essere a conoscenza dei due presunti fedi fraghi, ma di non poter dire nulla. Dopo il cannagate, ecco esplodere un altro increscioso caso nel reality VIP prodotto da Magnolia. Verrà mai fuori tutta la verità? Chissà, intanto, Cecilia Capriotti, nei giorni, che è tornata in Honduras nell'isola che non c'è insieme agli altri eliminati. Ha fatto subito scandalo. Difatti la donna ha fatto delle incredibili e scioccanti rivelazioni a Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Filippo Nardi, raccontando particolari dettagli sulla sua vita privata con il suo fidanzato, che hanno lasciato di stucco un po' a tutti. Insomma, in questi giorni Cecilia Capriotti, tra clamorose rivelazioni e il gossip inerente a un suo presunto flirt con Amauris Perez, ha catalizzato le attenzioni del pubblico a casa. Ci saranno presto altri clamorosi colpi di scena?